Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Monteforte dal Pone in provincia di Verona in via San Rocco per un incidente stradale. Un'autovettura con a bordo tre giovani tra i 20 e i 25 anni è finita fuoristrada dopo essersi scontrata frontalmente con un auto articolato. Incastrato tra le lamiere l'autista della vettura, feriti i due passeggeri di cui uno è stato sbalzato fuori dal mezzo, illeso invece l'autista del bilico, strada completamente chiusa al traffico. I pompieri giunti dal distaccamento di Caldiero con un'autopompa e cinque uomini hanno lavorato per liberare con divaricatori e cesoie idrauliche l'autista dell'autovettura per poi affidarlo alle cure dei sanitari sul posto con due ambulanze e l'elicottero del 118 che dopo averli stabilizzati ha provveduto al ricovere di tutti e tre i feriti presso gli ospedali di Verona, Borgo Trento e di San Bonifacio. Successivamente i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo pesante che a causa dello scontro perdeva carburante dal serbatoio. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 19.